Dopo la comunità montana Alento-Montestella, da questa mattina stanno protestando i lavoratori della comunità montana Calore-Salernitano, Alburni e ancora alle 6.30 hanno cominciato a protestare anche i 120 lavoratori della comunità montana dei Picentini che da sei mesi non percepiscono lo stipendio. La situazione è veramente critica e i lavoratori sono disperati. Sono pronti a tutto e resteranno sui tetti a manifestare fino a quando non riceveranno le mensilità retrate. Si attende l'incontro di lunedì prossimo in prefettura Salerno con i sindaci delle diverse comunità montane. Decisiva potrebbe essere anche la convocazione a Napoli per l'11 ottobre quando il presidente della regione Campania Stefano Caldoro riunirà i sindacati e i presidenti delle sedi montane della regione Campania. In totale sono 5.000 forestali e 3.000 solo in provincia di Salerno. Lei ha famiglia? Certo, io ho 4 figli, è un mutuo addosso e sono 6 mesi che non percepiamo lo stipendio. Siete intenzionati ad andare avanti nella protesta? Sì, a tempo indeterminato finché la regione non ci dà una risposta concreta. Comunque noi abbiamo molte cose da pagare, abbiamo tutte le bollette e quindi i sindaci non sono stati nessuno solidari con noi. La regione Campania è stato un pinocchio nei nostri confronti. Oggi ci dà una cosa e domani ce la negava, dopo domani ce ne dà un'altra e l'altro giorno ce la negava. Io mi sono fatto dei debiti per fare alcune cose, adesso sono senza soldi e proprio non si può tirare più avanti. Siamo in guaiati tutti qui e giustamente vogliamo sapere dentro o fuori perché stare così non serve a niente. Io non ho tre figli ma ne ho nove e alcuni vanno a scuola. Non posso comprare libri, non posso fare abbonamento. A scuola chiedono libri e come vanno a fare? Noi siamo dei lavoratori, non siamo imprenditori che ci possiamo permettere di non percepire lo stipendio per 6 mesi, 7 mesi e non si sa quando ci pagheranno. Intanto il presidente della comunità montana dei Picentini Gerardo Marotta ha annunciato che se l'ente di Palazzo Santa Lucia non dovesse dare risposte concrete in merito alle risorse finanziarie delle comunità montane sarà costretto a consegnare le chiavi dell'ente al prefetto di Salerno. Piena solidarietà ai 120 lavoratori dei Picentini è stata espressa anche dal sindaco di Giffoni Valle Piana Paolo Russomando. La regione Campania è completamente assente da questa questione, non si capisce quali sono i programmi futuri, c'era in progetto la riforma della legge 11 che è la riforma che disciplina in materia le loro attività. I lavoratori hanno fatto il loro lavoro, continuano a lavorare e ad impegnarsi per il bene e per la sicurezza del nostro territorio e noi dobbiamo stargli vicino non solo come amministrazioni locali ma anche come istituzioni.